Ok, possiamo partire? Dunque, oggi cercheremo di finire l'esercizio che abbiamo iniziato di corsa la volta scorsa, quindi abbiamo abbastanza tempo e cercherò di farlo il più con calma possibile. Per chi è rimasto magari indietro o vuole riniziare da dove eravamo rimasti, potete fare il fork del repository su GitHub e clonarlo nel vostro repository se siete rimasti indietro. In ogni caso, che cos'era questo esercizio? Semplicemente un gestore corsi in cui volevamo interfacciarci con il seguente DB. Quindi il DB iscritti corsi dovrebbe visualizzare il diagramma entità relazioni, forse, eccolo qua, in cui ci sono tre tabelle, studente corso e iscrizione che è la tabella temporanea che serve per mappare la relazione molti a molti. Allora, questo programma chiedeva di analizzare i corsi sulla base del periodo didattico con due possibili operazioni. La prima, l'unica che abbiamo fatto, è elencare tutti i corsi di un determinato periodo didattico e la seconda, che andremo a fare adesso, stampare il numero di scritti ai corsi di un determinato periodo. La seconda parte, tutta da fare, invece era un'analisi di ogni singolo corso, quindi dato un corso, stamparne tutti gli studenti iscritti, oppure stamparne la divisione degli studenti tra i corsi di studio. Ora qui probabilmente siete tutti gestionali, ma in certi corsi può capitare che ci siano studenti gestionali, meccatronici, informatici, eccetera. Allora, andiamo a vedere che cosa avevamo fatto fin qui. Avevamo, apro il model, gestore corsi, avevamo fatto la prima opzione. Dato un periodo didattico, che il model riceveva come parametro dal controllore, avevamo provato a fare due soluzioni. La prima, scaricavo dal DB tutti i corsi e poi li andavo a filtrare internamente. Ok? Quindi, il DAO, corso, aveva questo bellissimo metodo per selezionare tutti i corsi dal DB. Li prendevo tutti e li andavo a filtrare internamente sulla base del periodo. Soluzione due è far fare questo lavoro, invece, direttamente al DB, con una query parametrica. Vedete che il codice Java si riduce di molto? Ovviamente nel DAO si complica un pochino, in questo caso neppure troppo, la query. Abbiamo una query in più. Ok? Però, grazie a questo metodo, ho già tutto pronto. Domande? Qual è meglio, qual è peggio? Oggi abbiamo visto che dipende. Oggi, se riesco, vi faccio vedere un'altra differenza in più. Dipende dal DB, da quanti dati ci sono, da quanto codice dobbiamo scrivere in Java, quindi non c'è una risposta. Domande? Altre cose fondamentali che abbiamo visto è il pattern DAO. Pattern DAO serve per dividere la logica per accedere dal DB, alla logica applicativa del modello. E come regola che ci diamo è per ogni tabella nel DB che ci interessa, abbiamo un DAO separato. Quindi qui avremo un corso DAO, che abbiamo già fatto, e anche uno studente DAO. Non avremo un'iscrizione DAO, perché iscrizione è una tabella, non è temporanea, ma è una tabella che all'interno del DB è utilizzata per mappare solamente la relazione molti a molti, ma non è di interesse per noi. Altra regola fondamentale è che per ogni tabella abbiamo una classe che modella ogni riga di queste tabelle. Abbiamo già fatto la classe corso, avremo anche poi la classe studente. Vedremo più avanti che questo pattern si chiama pattern ORM, anche qui ci dice che per ogni tabella di interesse abbiamo una classe, un java bin, un contenitore. Come è fatto questo java bin? Ha dei campi privati che corrispondono alle varie colonne della tabella e si chiamano esattamente allo stesso modo, ha tutti i getter e i setter per questi campi, ha un costruttore con i vari campi e cosa fondamentale ridefinisce l'hashcode e l'equals. Dove abbiamo visto, se stiamo parlando di DB è abbastanza, anzi è praticamente immediato capire su cosa definire l'hashcode e l'equals, che è la chiave primaria, ok? Perché ovviamente nel DB non possono esistere due righe con la stessa chiave primaria, quindi la chiave primaria automaticamente ci dà il modo per capire se due righe della tabella, in questo caso due oggetti, sono uguali. E poi dal controller, che ovviamente ha il solito riferimento al modello, avevo i vari metodi, abbiamo fatto solo questo, in cui c'era il controllo dell'input e poi tramite il modello richiedevo i corsi per periodo. Ok, possiamo andare avanti, se lanciamo l'applicazione vediamo che abbiamo già definito due bottoni, che sono relativi alla prima parte dell'esercizio. Se abbiamo fatto cerca corsi, dobbiamo fare statistiche corsi, abbiamo già il bottone e anche il metodo associato, quindi torniamo in Eclipse. Ah, l'ultima cosa che volevo dirvi prima di iniziare, dovreste già aver ricevuto una mail su quel famoso problema della time zone, no? Che molti di voi avevano. Con molta gioia vi devo comunicare che anch'io, penso dopo un aggiornamento del Mac, perché è capitato tutto ad un tratto stamattina, anch'io ho ricevuto lo stesso errore. Quindi neanche chi ha il Mac è immune totalmente a questo problema. Problema che si risolve o cambiando il connector, ma avete la guida che vi ha fatto il professore, oppure inserendo esplicitamente il time zone nella stringa di connessione. Ok? Però nella guida si... Ma questo è un problema con tutti i progetti, perché io mi sono accorto che ce l'ho con un progetto solo, mentre con un altro no. È molto strano questo. Dovremmo... Abbiamo cambiato la stringa di connessione dall'esterno di un progetto, perché abbiamo più avuto il problema. Ok. È molto strano come è strano il fatto che questo progetto è rimasto... non l'ho più toccato dalla scorsa lezione, stamattina lo riapro per vedere se tutto funzionasse e ho trovato quell'errore. Quindi non ho ancora avuto tempo di... però è strano, sia il tuo comportamento femminile. Comunque, in ogni caso basta aggiungere questa... questa stringa, la aggiungete sempre così siete a posto. Ok, partiamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dato un periodo didattico, stampare tutti gli iscritti, il numero di iscritti ai corsi di quel periodo didattico. Allora, io direi, come vi ho suggerito la volta scorsa, proviamo a partire dalla query che vogliamo fare. Quindi io mi apro il mio client, che in questo caso è SQL Pro, ma ID va benissimo lo stesso. Seleziono il DB, eccoci qua. Come faccio secondo voi? Allora, quello che ho, io ho un intero che è il mio periodo. Ok? Uno o due. Questo mi arriva direttamente dal programma. Adesso voglio avere tutti i corsi di questo periodo con, di fianco, un numerino che indica il numero di iscritti. Come faccio secondo voi? Riesco a farlo tutto in una query? Lo faccio, faccio una query più semplice e poi lavoro da Java? Idee? Partiamo dalla domanda più facile. Riesco a farlo tutto in una query? Certo, ci sono su SQL, count, average, eccetera. Quindi, sì. Ok? Basi di dati l'avete fatto, giusto? Tempo fa. Quindi, sì, si può fare tutto in SQL, anzi, risulterà una query abbastanza facile, ok? Le query che vedremo più avanti saranno anche un pochino più complicate di questa. Non molto, ma un pochino forse sì. Si può fare. Mi date una mano, la faccio io. Ovviamente c'è una select. Mettiamo un po' lo zoom. Che cosa mi serve? Innanzitutto, sì, gli studenti iscritti al corso, ma mi servirà il corso, no? Cioè, io mi immagino come risultato avrò basi di dati, numerino, avrò tecniche di programmazione, numerino, giusto? Ragioniamo sulle tabelle, forse ci viene più facile. Che tabelle mi servono, devo inserire nella query? Tutte, una, due? Allora, mi serve, quantomeno il nome del corso mi serve, perché poi lo voglio stampare, quindi il nome del corso sta in questa tabella, la tabella corso ci va, giusto? Poi mi serve sapere quanti studenti sono iscritti. La tabella corso ovviamente non me lo dice, la tabella corso ha una riga per ogni corso con le informazioni del corso. Se voglio gli iscritti, devo guardare da questo lato qui. Quindi sicuramente la tabella iscrizione mi serve, la tabella iscrizione mappa una relazione molti a molti, quindi ci sarà che la matricola 1 è iscritta al corso 1, la matricola 2 è iscritta al corso 1, eccetera, per tutti i corsi. Quindi anche questa mi serve. Mi serve la tabella studente? Chi dice sì? Qui vogliamo solo corso numero di iscritti, quindi no, ok? Non mi serve nessuna informazione sugli studenti in questa query qui, quindi quella tabella posso escluderla, ok? Ok. Allora sicuramente nella from avremo corso C virgola iscrizione I. Dopodiché mi serve, abbiamo detto, quanto meno il nome del corso, C punto nome, e voglio sapere quanti sono iscritti a questo corso. Count. Count asterisco as tot. Ovviamente non è finita qui, devo fare la join tra le due tabelle. Where? C punto codings, mi sembra. Vado a controllare perché non sono sicuro. Codings, codings, ok. Uguale a I punto codings. Finito? Group by. Ovviamente se abbiamo una funzione di aggregazione dobbiamo avere anche la group by. Group by. Giusto? Quindi, cosa fa la group by? Fa un gruppo di tutti i corsi con lo stesso no, di tutte le righe che hanno C punto nome uguale, ok? Li raggruppa, li collassa in un'unica riga e con l'account asterisco riesco a contare quante righe sono state collassate. Se volessimo essere più precisi, non abbiamo la certezza che potenzialmente potrebbero esistere dei corsi con chiave primaria diversa e stesso nome. Lo so che è strano, ma la struttura del DB lo permette. Se guardiamo qui, vedete che la chiave primaria è codings. Nome non è chiave primaria, cioè non è un indice. Quindi potenzialmente, anche se sarebbe molto strano, potrebbero esistere due corsi con diversa chiave primaria ma stesso nome. Ok? È chiaro questo? E quindi questo potrebbe risultare un problema con questa query qui. Quindi per essere veramente sicuri dovremmo anche aggiungere il codings come select e soprattutto come parametro della group by. Ok? Così siamo sicuri che il raggruppamento viene fatto per chiave primaria. La regola è che tutto quello che c'è nella group by va messo anche nella select. Domande? Sareste riusciti a farla da sole? Allora, è già un pochino più complicata, non è ancora al livello che sperimenterete ad esempio l'esame. Dove il 50% del passo non passo l'esame sta nella query che bisogna fare. Ok? Quindi se avete delle lacune in base di dati vi consiglio di ripassarle un po'. Alla peggio sì. Se uno sta impazzendo sì, spera che il db non sia troppo grosso. Perché se è troppo grosso cerchi di portarti tutto in memoria, ci mette mezz'ora e non ce la fa e noi non possiamo valutare l'esame. Quindi alla peggio sì, ma c'è questo vincolo. Proviamo a lanciarla. Ovviamente mi dà un errore. Ho sbagliato qualcosa. Questo è l'errore. Ho sbagliato. Ho sbagliato. ah certo manca una es qua se non mi sbaglio esatto mancava una es prima di ridefinire ovviamente ridefinire una tabella è opzionale ok potete anche usare corso.codins sotto però funziona senza es ma bene sì però ovviamente se se non uso la es ok eh qui devo scrivere corso no cioè io non ho messo es però ho messo c e funzionava ah ok eh si vede che è un problema legato cioè SQL Pro vuole la es non lo so perché l'ho messo e ha funzionato o forse la versione di MySQL installata non ne ho idea sì in teoria anche io mi ricordavo che dovrebbe funzionare anche senza es comunque non facciamoci troppe domande o uno o l'altro ok eccoli qua vedete che come risultato ho codins il nome del corso e tot che mi rappresenta il numero di iscritti ad ogni corso e quindi in realtà ho già risolto il mio punto basta trasportare questa query di là e automaticamente ho tutte le informazioni che mi servono va bene allora io posso copiarmi la query e tornare di là anche qui possiamo decidere da dove partire partiamo dal modello quindi apro il modello e qui avrò un metodo per interfacciarmi col DAO ed eseguire la query che abbiamo appena fatto ora la domanda è come salviamo questi dati? dove li salviamo? per come abbiamo impostato la query abbiamo una serie di coppie stringa che il nome del corso è valore lui dice una mappa può starci ok? quindi supponiamo che questo metodo ritorni una mappa in cui le chiavi siano qui possiamo decidere abbiamo anche il codins ok? però visivamente è meglio il nome forse quindi string e il count che sarà un integer avessimo avuto avessimo fatto una media non era un integer era un double ad esempio get iscritti corsi ad esempio in cui passo il periodo ok? allora qui siamo riusciti a fare un'unica query quindi posso delegare tutto al DAO lo faccio direttamente nella return ovviamente il DAO me lo devo creare per come ho impostato il problema potrei anche creare un'unica istanza di classe poi vediamo se farlo return DAO punto approccio top down suppongo di avere un metodo del DAO che si chiama magari allo stesso modo di quello del modello cui dato il periodo mi ritornerà ovviamente una mappa stringa interi devo importare la mappa e ora chiedo a Eclipse di creare per me il metodo che ho immaginato nel DAO ok? eccolo qua lui ovviamente me lo crea vuoto e noi ora andiamo a definirlo allora il pattern è sempre lo stesso quindi all'inizio mi definisco la mia query che vado a copiare di là non so se ce l'ho ancora in memoria no ovviamente allora vado a ricopiarlo un attimo ce l'ho già qua eccola qua bisogna fare un po' di lavoretto togliere gli slecenne e ricordarsi sempre di lasciare uno spazio se andiamo a capo ok? l'avete già visto? perché altrimenti lui vedrebbe tot come attaccato a from quindi ci vuole o uno spazio sopra o uno spazio all'inizio dopo anche qui al posto dello slecenne lascio uno spazio lascio uno spazio metto un punto e virgola ci eravamo dimenticati di una cosa mi viene in mente adesso nell'altra query qual è? ci siamo dimenticati un pezzo sì quello che abbiamo fatto su SQL Pro questa sì esatto il periodo allora questa query qui la fa per tutti i corsi indipendentemente dal periodo noi la vogliamo per un determinato periodo beh quindi semplicemente aggiungiamo una end alla where ok? c punto pd giusto? uguale punto interrogativo perché questo parametro glielo andiamo a impostare dopo facendo un prepare statement ok dopo di che definiamoci subito la struttura dati che conterrà il risultato quindi creiamo una mappa chiamiamola result come sopra uguale new hash map integer leggera ok in questo caso siamo abbastanza tranquilli che tutto funzionerà senza disastri perché nella map usiamo dei tipi già definiti da java ok quindi avendo come chiave una stringa siamo sicuri che il suo hash code ed equals funziona tutto bene dimmi forse conviene di sicuro altrimenti sarebbe stato un errore grazie quindi siamo abbastanza tranquilli con un hash map del genere diverso se avessimo pensato a un hash map ad esempio corso integer che andava benissimo anzi concettualmente forse era pure più giusto diciamo io ho la mia hash map in cui al corso associo il numero di scritti a quel punto lì bisognava fare attenzione alla mia classe corso ma magari lo vediamo dopo per adesso siamo abbastanza tranquilli ok il solito try catch in cui il catch è una s u l exception se si verifica un'eccezione la catturo e semplicemente la rigenero è un po' come lavarsene le mani dico sì si è verificata un'eccezione chi è a livelli sopra di me se ne occuperà in questo caso il controller eventualmente ok dentro al try catch mi faccio dare la connessione primo passo abbiamo già creato la classe connect db che fa proprio questo lei è sempre uguale mi restituisce sempre una nuova connessione secondo passo mi creo il prepared statement st uguale con punto prepared statement a cui devo passare la mia query sql imposto il parametro in questo caso il periodo è un intero quindi set int alla posizione numero 1 abbiamo solo un parametro imposto il periodo e poi esegui eseguis eseguo scusate la query rs uguale st punto execute query è un result set quindi lo posso scorrere in questo caso sicuramente ci saranno più righe una per ogni corso di quel periodo quindi while res punto next qui cosa dobbiamo fare per come l'abbiamo impostato non abbiamo da creare nuove nuove istanze di oggetti come nel metodo qua sopra qui creavamo un corso abbiamo definito una mappa di tipi predefiniti e quindi semplicemente andiamo a mettere nella mappa i valori che ci interessano quindi faccio result punto put la chiave sarà in questo caso per semplicità mettiamo il nome perché è più leggibile res punto get string no sì rs ecco era anche rs qui rs punto get string qui dobbiamo mettere il nome esatto della colonna che è nome e come valore mettiamo quello che abbiamo calcolato rs punto è un intero get int e qui mettiamo non è una colonna ma è un conteggio che abbiamo fatto al volo nella query ma l'abbiamo ridefinito come tot e quindi possiamo mettere tot ok finito questo ciclo chiudiamo la connessione e al termine di tutto ritorniamo la nostra mappa domande? vedete che quello che si fa nel ciclo dipende ogni volta dal nostro obiettivo in questo caso abbiamo messo i risultati in una mappa risultati che abbiamo preso così come erano stringhe interi nel caso precedente abbiamo creato un'istanza di corso e l'abbiamo aggiunta ad una lista dipende da cosa dobbiamo fare sì nosuitable driver vuol dire che forse non hai aggiunto il connector al build path hai aggiunto come libreria in una cartella lib ok ed è già nel build path e allora al volo così non mi viene in mente piuttosto guardiamo dopo nella pausa sì ok lui ecco ok lui dice che il vostro compagno dice che ci sono due esami con lo stesso nome esatto era il problema che temevo ci sono due corsi che però in teoria hanno la stessa mi sembrano abbiano la stessa ah no è diverso esatto è il problema che temevo giusto quindi sicuramente nella query abbiamo fatto bene a mettere il codings come raggruppatore di di query altrimenti avremmo fatto un errore ok purtroppo se lo mettiamo lì anche qui abbiamo lo stesso problema anche nella mappa perché noi abbiamo pensato di utilizzare come chiave il nome peccato che ci sono due esami con lo stesso nome e quindi questo crea un conflitto quindi qui per il momento siamo costretti a mettere il codings ok che non sarà tanto efficace dal punto di vista della leggibilità perché stamperemo un numero ma poi vediamo se riusciamo a risolverlo il vostro compagno dice se mettessimo distinct dove? sul? dopo select qua così? sì però il problema e quindi tu toglieresti questo? così? no direi che il problema è che così li collassa in un unico esame quindi fai confluire gli scritti di un corso diverso tutto in un unico corso e quindi è concettualmente errato ok vabbè ci arrangeremo con il codings grazie del suggerimento va bene abbiamo il metodo andiamo nel model ah ce l'abbiamo già vediamo perché da un errore non è ah devo salvare ovviamente ok allora prima di aggiungere al controller la logica proviamo a testarlo con una classe di test quindi io nel package model mi genero una classe che chiamo test model in cui vado a inserire un main è molto utile prima di collegarlo al controller verificare che tutto funzioni e come vi dicevo le lezioni scorse se riesco a testare il modello da una classe java vuol dire che ho diviso bene la mia interfaccia grafica dalla logica applicativa quindi mi definisco un metodo run creo un'istanza del main e lancio il metodo run non è un'istanza del main ma un'istanza di test model ovviamente perché ho chiamato la classe così ok e in questo run cosa faccio mi creo il modello ok e cerco di recuperare le statistiche dei corsi di un determinato periodo quindi model punto non so come l'ho chiamato get iscritti corsi di ad esempio il primo periodo allora devo importare la mappa e ovviamente devo dargli un nome ok e poi provo a scorrere la mappa e stampare i risultati for allora per scorrere una mappa abbiamo varie alternative una è scorrere coppia per coppia direttamente chiave valore ad ogni giro quindi con una entry in res punto entry set vediamo se sì devo importare entry la entry di java util punto map quindi res punto entry set semplicemente mi ritorna ad ogni giro del ciclo la coppia chiave valore ok l'altro modo è scorrere le chiavi e andare a recuperare il valore ogni volta fa lo stesso e stampo entry punto get key più metto un uguale più entry punto get meglio ok proviamo a lanciarlo sì direi che ci siamo ovviamente non è molto leggibile perché bisognerebbe ricordarsi a che cosa corrisponde questo code ins ok quindi quali sono le possibilità che abbiamo come facciamo a recuperare il nome del corso dato un code ins beh qui qui le opportunità sono n prima opportunità sicuramente non la più efficiente per ogni code ins vado a fare una query nel db ok il problema è che così faccio tantissime query faccio questa qui generale e poi per ogni riga vado ancora quindi non molto efficiente soluzione soluzione numero due ho da qualche parte in memoria una mappa con tutti i miei corsi che mi sono precedentemente scaricato in memoria in cui la chiave è il code ins e il valore è l'intero corso allora vado a chiedere a questa mappa dato questo code ins dammi il corso così mi prendo il nome questa soluzione la vedremo più avanti l'ultima soluzione che mi viene in mente è quella di fare una query includendo anche no la classe corso ce l'abbiamo già quindi di fare una query con tutti i campi qui della classe corso e ogni volta mi vado a rigenerare un corso nuovo un po' come facevo un po' come facevo un po' come facevo qui ok grazie a i parametri che ho messo nella select mi creo un nuovo corso poi ci sarà un ulteriore parametro che è il count e lo associo al corso e a questo punto qui diventerebbe una mappa di corso integer possiamo anche provare quindi trasformo la mappa in corso integer ovviamente qui non mi basta più il code ins e il nome ma mi servono anche crediti e pd c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c corso new corso in cui vado lo copio di qua per semplicità a prendere tutti i parametri che ho messo nella query è chiaro cosa ho fatto no allora abbiamo detto che la soluzione col codins non va tanto bene perché poi non riesco a stampare il nome del corso quindi voglio avere anche il corso ok voglio avere corso numero di scritti come faccio ad avere il corso una soluzione non la più efficiente è quella di creare un nuovo corso sulla base di quello che prendo dal dalla query ok se voglio creare un nuovo corso sulla base di quello che mi esce dalla query ovviamente devo avere tutti i campi di del corso e quindi ho aggiunto credit e pd in modo tale che ad ogni giro riesco a ricrearmi diciamo il corso questo ovviamente diventa una mappa di corso integer allora non è di sicuro la soluzione più efficiente ed è di sicuro una delle soluzioni che può portare agli errori più comuni perché qui innanzitutto perché non è efficiente perché sto creando tantissime volte degli oggetti corso che io ho già creato prima quando ho cliccato l'altro bottone quindi potenzialmente ce li potrei già avere e io li ricreo da zero ogni volta quindi potenzialmente qui avremo una marea di oggetti corso e se l'utente continua a cliccare tutte le volte il bottone prima o poi il programma esplode ora qui i dati sono pochi ma potrebbe capitare con molti più dati l'altro problema più grave per voi è che se non avete definito bene le scode liquals tutti questi oggetti nuovi che create sono in realtà diversi ok quindi voi qui avete creato un oggetto corso relativo a tdp qui ne create un altro sempre relativo a tdp ma è diverso è un altro oggetto perché non avete implementato bene le scode liquals ok e questo crea problemi quando poi dovete recuperare i dati dalle mappe metterli nelle mappe perché sono oggetti che dovrebbero essere uguali ma sono diversi ok quindi vedremo che al posto di ricrearli da zero ogni volta la soluzione sarà utilizzare una mappa in memoria che tiene traccia di questi oggetti corsi e li crea una volta sola se è già creato lo prendo dalla mappa così sono sicuro che è sempre lui e sarà sicuramente uguale perché ce n'è solo uno ok comunque se abbiamo implementato bene le scode liquals cosa che abbiamo fatto dovrebbe funzionare lo stesso non molto efficiente ma dovrebbe funzionare ovviamente dobbiamo cambiare il modello qui sarà una mappa di corso integer e poi nel mio test model anche qui sarà una mappa di corso integer a questo punto posso non solo recuperare la chiave ma recuperare il nome del corso ovviamente lui la vede come un oggetto quindi dobbiamo fare un cast a corso no get nome ho fatto un cast a corso perché la get key mi restituiva un oggetto ma io sono sicuro che la chiave è un corso quindi posso fare il cast e posso recuperare il nome vediamo se funziona ovviamente no c'è un problema nella sintassi mysql vicino al count andiamo a vedere forse manca una virgola si manca una virgola ok quando ricevete un errore del genere vuol dire che o avete magari dimenticato lo spazio al fondo avete dimenticato una virgola c'è un errore della sintassi proviamo a rilanciare il mio test model eccolo qua finalmente vedete che correttamente ci sono due corsi con lo stesso nome ma sono due corsi diversi quindi hanno degli scritti numero di scritti diversi tutto funziona tutto chiaro quindi ricapitolando abbiamo visto che solo il nome non ci bastava quindi abbiamo scelto di avere l'intero corso associato al numero di scritti cosa che concettualmente suona anche meglio per avere questo corso l'abbiamo tutte le volte ricreato da zero non è efficiente ma funziona perché abbiamo implementato bene le scicode liquus ok possiamo proseguire con la seconda parte dell'esercizio che richiede di analizzare un singolo corso anche qui abbiamo due operazioni quindi mi immagino di nuovo un campo di testo per inserire il codice di un corso e due bottoni per eseguire le due operazioni allora apro con SimBuilder la mia interfaccia grafica qui cerco di andare un po' più veloce perché è la parte forse più noiosa e aggiungo dentro al mio V-Box anzi l'avevo già aggiunto un H-Box che per il momento è vuoto aspettate che incremento e dentro utilizzo la stessa struttura di sopra quindi metto una label properties testo corso ok poi mettiamo un text field dopo la label che chiamiamo nell'id txt corso ok qui non dobbiamo definire nessuna on action le on action le definiremo nei due bottoni il primo chiamiamolo btn non mi ricordo più che cosa deve fare il primo bottone scusate elencare tutti gli studenti di un determinato corso quindi btn studenti corso e nell'on action do elenca studenti ok cambia ancora il testo elenca studenti va bene ne aggiungo ancora uno statistiche statistiche cds cds dove cds sta per corso di studi id dtn che ne so cds e un action do calcola stat cds vabbè non metto margini eccetera perché sarebbe una perdita di tempo li metto poi piuttosto dopo tanto non sono fondamentali adesso ovviamente mi vado a prendere lo scheletro del controller e qui dobbiamo fare un po' di lavorino nel senso che cerchiamo di copiare solo la parte che abbiamo aggiunto ovviamente quindi abbiamo aggiunto questi due li vado a copiare tasto destro copy vado nel controller e li aggiungo qui ok poi torno di là copio ancora i metodi allora abbiamo questo e ovviamente me li ha messi separati quindi abbiamo questo calcola stat cds ok e poi abbiamo ancora elenca studenti eccolo qua e posso ancora copiarmi le due righe di inizializzazione che sono queste due qua le due nuove un po' scomodo perché abbiamo fatto due in due momenti distinti quindi non volevo risovrascrivere il controller è chiaro? ho preso solo la parte che ho aggiunto allora qui ma mancava ancora non abbiamo l'abbiamo provata nel test model ma non l'abbiamo collegata al controller quindi collego un attimo abbiamo visto che funziona quindi copio quello che ho fatto nel test model e nel controller ovviamente non è una out.println ma è una txt result punto append text e aggiungo anche una capo è chiaro? ho solo preso quello che ho fatto nel test model e ho aggiunto al metodo del bottone della prima parte ok? manca il controllo dell'input lo copio pari pari ok? e il controllo è sempre quello l'utente ha inserito un periodo controllo se è un numero e se è uno o due provo un attimo l'applicazione riaprendo il file fxml per farlo caricare ok non l'ha ricaricato forse non l'ho salvato proviamo solo statistiche corsi sì funziona ok? forse non ho salvato questo ok lo riapro rilancio e ora c'è anche la seconda riga ovviamente questi due bottoni non fanno ancora niente quello che dobbiamo fare adesso domande fin qui? eccoci qua allora i primi due fatti abbiamo da fare i secondi due partiamo da elenca studenti che è il più facile da dove partiamo? possiamo partire dal modello come prima e poi testarlo nella test model o possiamo partire direttamente dal controller almeno forse questo punto riusciamo a completarlo ok? allora che cosa mi aspetto quando clicco questo bottone? io ho inserito un corso clicco il bottone mi aspetto tutti gli studenti iscritti a questo corso quindi già da come ho detto questa frase mi aspetto tutti gli studenti è chiaro che mi servirà una classe che modelli uno studente ok? che non ho ancora ok? quindi nel mio package model oltre alla classe corso mi dovrò creare il mio java bin che è semplicemente una classe che chiamo studente allo stesso modo della tabella ok? la classe studente avrà tutti i campi della tabella studente privati andiamo a vederli perché ovviamente non me li ricordo avremo una matricola che è un intero nome uguale matricola alla colonna poi avremo un cognome e un nome che sono delle stringhe e poi avremo un campo cds che è il corso di studi che è una stringa ok? avremo tutti i getter e i setter che mi faccio generare da eclipse source genera il getter e il setter di tutti eccoli qua avremo il costruttore source genera constructor utilizzando tutti i campi eccolo qua e avremo sicuramente l'hashcode equals source generate hashcode equals e vado a selezionare la chiave primaria che è la matricola ok? va bene questa sarà la classe con cui scambieremo dati col db sotto forma di studenti non basta perché oltre alla classe studente dovremmo avere il relativo dao che non abbiamo ancora quindi all'interno del package db mi creo classe studente dao ok salvo tutto va bene questi sono i passi preliminari da fare il dao è la classe che modella il risultato dopodiché torno al model al controller scusate quindi sicuramente io mi aspetto che l'utente inserirà il codice di un corso questo codice di corso lo vado a recuperare dal campo di testo relativo quindi code ins uguale txt l'abbiamo chiamato corso mi pare punto no non l'abbiamo sì che l'abbiamo chiamato ah non l'ho copiato forse no non l'ho copiato se mi faccio rigenerare il controller non ho copiato txt corso ok beh lo copio e lo aggiungo ai campi va bene va bene quindi txt corso punto get text ci sarebbe tutto il controllo da fare ma lasciamo perdere un attimo lo aggiungerò dopo perché voglio concentrarmi sulla logica ok dato questo corso allora mi immagino di avere nel model un metodo che mi ritorni che cosa cosa dovrà ritornarmi questo metodo una lista di studenti list di studente studenti uguale dis punto come l'ho chiamato model ah prima forse devo importare studente ok dis punto model punto elenca studenti non ce l'ho ancora me lo sto immaginando a cui passo codings ok e poi data questa lista è facilissimo scorrerla for studente s in studenti txt result punto append text s punto to string più slash n ok quando li ho è facilissimo stamparli magari nello studente ridefiniamo anche to string ok sono nello studente mi faccio generare anche un to string su tutti i campi ad esempio sui campi che preferite ok così quando poi dal controller che ho perso che ho perso il quarto faccio il to string lui utilizza il to string che ho ridefinito ok questa era la parte facile ovviamente ovviamente dobbiamo ora farci creare questo metodo del model lo chiedo d'eclipse tac però lui dice non convertiamo codings in realtà se andiamo a vedere la tabella codings è una stringa quindi non dobbiamo convertirla in numero fosse stato un numero sì bisognava convertirlo prima di passarlo al modello ok perché codings può contenere anche lettere qui rimangono in campo sempre le varie opzioni questa query è veramente facile quindi io so già che la farò fare tutta al DAO dovrò crearmene un'istanza studente DAO DAO uguale new studente DAO la importo DAO punto elenca studenti dato il codings di nuovo questo metodo non ce l'abbiamo ancora ma lo dobbiamo creare qui dobbiamo fare la query giusto allora vado su SQL Pro e proviamo a farla prima qui che tabelle mi servono lui dice iscrizione io non sono molto da così iscrizione sì sicuramente serve mi basta iscrizione abbiamo creato una classe studente ok una classe studente a vari campi se usiamo solo iscrizione noi riusciamo a riempire solo la matricola che può andar bene come no forse ci serve avere tutto lo studente anche il suo nome anche il suo cognome per stamparlo ok quindi direi che ci servono queste due tabelle from studente s iscrizione i perché non ci serve corso visto che noi diamo come parametro il codings perché il codings ce lo ritroviamo anche in iscrizione quindi possiamo basarci su quel campo ok ci servissero più informazioni sul corso dovremmo mettere in join anche la tabella corso ok qui non posso mettere asterisco perché se metto asterisco mi porto dietro anche il campo codings che io non voglio perché a me interessano solo gli studenti e quindi metto come select tutti i campi di studente cds manca la where ovviamente dobbiamo fare la join tra le due tabelle che è sul campo matricola e dobbiamo aggiungere anche la condizione che il corso sia quello inserito dall'utente quindi i punto codings uguale e ora a memoria non mi ricordo nessun codice di corso andiamo a prenderlo magari da qui lo copio il primo ad esempio lo incollo qui vediamo se tutto funziona ah già mi fa mettere le es mancano gli apici giusto è una stringa ecco tutti gli studenti iscritti a quel corso con quel codice lì è un db vecchio quindi non penso vi troviate dentro va bene però sembra funzionare quindi la copio la vado mettere nella mia SQL string la sistemo togliendogli slash n e ovviamente e ovviamente al posto di questo valore vado a mettere un punto interrogativo ok dopo di che possiamo prendere spunto per la struttura da corso dao dobbiamo definirci la struttura dati che poi ritorneremo che è una lista di studenti inizialmente vuota il solito tra i catch vedete che poi alla fine è sempre tutto uguale almeno la struttura la query no la importo se c'è una exception la rigenero ok allora devo farmi dare una connessione connect db punto get connection ovviamente la devo importare st non l'ha importata come mai ok con punto get no com'è a memoria non me lo ricordo prepare the statement lo copio anche questo devo importare la classe imposto imposto il parametro st punto set string posizione numero 1 abbiamo solo quello codins e dopo di che copio eseguisco eseguo oggi non ci siamo eseguo la query anche qui mi aspetto che ci siano più righe nel result set quindi le vado a scorrere con un ciclo e vado a mettere nella mia lista studenti add e qui in questo caso farò una new di cosa di studente new di studente che vuole tutti i vari campi quindi rs punto get string di matricola ovviamente occhio a metterli in ordine secondo l'ordine in cui è definito il costruttore quindi abbiamo matricola cognome nome cds quindi rs punto get string cognome virgola rs punto get string nome e rs punto get string cds c'è una parentesi di troppo ah matricola intero giusto grazie get int ok finito il ciclo ricordarsi di chiudere la connessione al termine di tutto ritorno la mia lista di studenti va bene dovremmo quasi esserci anzi dovremmo esserci perché siamo partiti dal controller e siamo scesi fino al dao quindi proviamo a lanciarlo e speriamo qui mi da ancora un errore vediamo dove da nessuna parte ah ok non avevo salvato il modello allora lanciamo mi devo recuperare un codice di corso perché non mi so prendiamo di nuovo questo incollo il corso elenca studenti sì direi che ci siamo vedete che ha utilizzato la two string che mi sono fatto generare da eclipse non è molto bella si potrebbe far di meglio ok direi che non abbiamo più tempo di vedere l'ultimo punto a questo punto se volete provate a farlo io tra un po' di giorni lo faccio io e lo carico su github così potete controllarlo diciamo che la query non è molto diversa da quella che abbiamo fatto per le statistiche dei corsi anzi è quasi identica nella struttura va bene niente quindi ricapitolando abbiamo visto che per ogni tabella nel db che ci serve crea un nuovo dao crea una nuova classe faccio faccio le query devo decidere a priori se far far tutto al db oppure far qualcosa in java e vedrete che da qui in avanti questo dilemma vi si riproporrà diverse volte ok grazie per l'attenzione nell'ora dopo ricorsione di nuovo che avete iniziato la volta scorsa grazie per l'attenzione